Buongiorno a tutti, iniziamo anche se è appena finita quella prima perché se cominciamo a fare pause poi tutto si ritarda. Grazie a tutti di essere ancora qui. Questo è il momento di restituzione della macroarea discussione analisi approfondimento denuncia. Come potete immaginare sono dei temi molto ampi e come vedrete nella restituzione abbiamo toccato molti argomenti, abbiamo messo vicino per prossimità i tavoli che avevano delle cose in comune o in cui nella discussione c'erano delle cose in comune e inviterei a raggiungerci sul palco Yolanda Ratti se c'è, che anche se non fungeva da coordinatrice del tavolo in realtà ha portato un contatto un contributo tale che insomma ci sembrava giusto farlo riportare da lei. Allora parleranno tutti i coordinatori dei tavoli, i tavoli sono stati molto seguiti stamattina in alcuni casi con molti partecipanti, alcuni tavoli si sono più scaldati, cosa che non è necessariamente negativa, alcuni tavoli si sono svolti invece in maniera diciamo più universitaria nella struttura della discussione. Ovviamente ci siamo resi conto tutti che il forum deve essere un inizio, il forum è l'inizio di delle discussioni che vanno portate avanti e anche quest'idea delle proposte non c'è questa, non so come dire, un'ipotesi di chiudere dei temi così ricchi in due ore e mezza, ma questo per dire non tanto che se ci fossero state quattro ore oggi i risultati sarebbero diversi, quando si parla di tempo si parla di tempo, di gruppi di lavoro che possano davvero confrontarsi anche su delle proposte e questa volontà condivisa comunque che il forum possa in varie modalità come piattaforma condivisa, come modo di ricerca, come scambio di informazioni e modalità di monitoraggio è emersa in maniera diciamo importante. Comincio passando la parola al tavolo interdisciplinarità o transdisciplinarietà che è stato coordinato da Francesca Grilli e che metteremo subito in rapporto a un altro tavolo come si conserva l'arte contemporanea. Questo perché in realtà questo tema della interdisciplinarietà e della complessità o se vogliamo di come sia vario quella che è la definizione dell'arte contemporanea ha portato alcuni temi a emergere in entrambi i casi. Adesso passeremo la parola a tutti i coordinatori che parleranno diciamo per 5 minuti. Dopodiché vi permetteremo di avanzare domande, perplessità, ipotesi e a cui cercheremo di rispondere insieme. Quindi un po' di riassunto di come si è svolto il tavolo. Scusate. Funziona? Sì. Salve a tutti, io sono Francesca Grilli e questa mattina appunto ho coordinato il tavolo sulla interdisciplina. Erano presenti al tavolo con me Simone Antonacci, Francesco Bernardelli, Giancarlo Cauteruccio, Andrea Cavallari che però purtroppo non è venuto per motivi di salute, Cristian Chironi, Deborah Ercoli, Jacopo Ienna, Egele Prati, Walter Rovere, Alessandra Saviotti, Davide Savrani, Sissi, Benno Steineger, Valentina Vetturi. Quindi innanzitutto voglio ringraziare loro che mi hanno dato appunto la fiducia e anche come dire hanno creduto in me nella gestione di questo tavolo che non è stato facile da un punto di vista concettuale. Infatti diciamo come primo argomento che è venuto fuori, ci sono stati molti pareri discordanti sul tema. Il tavolo era aperto da me con una domanda interdisciplinarità o transdisciplinarità, già dirlo ti si sloga la lingua in qualche modo e cioè quando Fabio mi ha invitato a coordinare questo tavolo chiedendomi di dare un mio sguardo, un mio parere sull'interdisciplina, la cosa che forse mi disturbava di più era il fatto che interdisciplina in qualche modo presuppone per me una divisione, una divisione legata appunto a diversi ambiti. Con l'introduzione del tema transdisciplinarità ho voluto dare diciamo un altro sguardo al tavolo che era quello di riflettere invece su un unico metodo che unisce tutta una serie di discipline appunto. Io non ho una risposta al fatto che sia giusto uno o l'altro. Oggi sul tavolo ho posto un sacco di domande. Le domande sono state accolte molto positivamente. Sono stati toccati diversi argomenti tra cui ad esempio ecco partiamo appunto da Massimo di Chincalleri, un tema molto che mi sta molto a cuore, rivolto soprattutto agli artisti perché il mio tavolo aveva metà dei componenti che erano artisti. Io ci tenevo molto essendo io un artista e come dire, notando anche il fatto che in questo forum ci sono pochi artisti che conducono i tavoli anche pochi artisti diciamo magari della mia generazione. E quindi ho voluto anche come dire riflettere sul fatto qual è il nostro ruolo in tutto questo. E allora da Massimo è venuta fuori questa cosa molto interessante dell'autonomia della creazione degli artisti. Cioè laddove la transdisciplina o interdisciplina, chiamiamola come vi pare in questo momento, non esiste o non viene riconosciuta. Deve essere l'artista stesso in qualche modo a creare un proprio spazio. Questo anche sul modello di quello che hanno già fatto Chincalleri, che loro lavorano maggiormente nelle arti teatrali. Nell'arte visiva questo non è una modalità che ancora si utilizza. Altre questioni che sono venute fuori molto importanti e tutti eravamo d'accordo della poca competenza che vi ha in Italia della conoscenza dei vari campi. Prettamente il nostro tavolo era tra le arti visive e le arti performative. Per una questione sia di disponibilità delle persone che potevano partecipare oggi sia di una mia scelta anche. Ecco, tutti abbiamo convenuto che a volte ci sono proprio delle inconsapevolezze rispetto alle arti visive e il mondo del teatro o altri mondi. Da qui vorrei toccare invece, perché ho cinque minuti quindi stringo, le proposte che sono state fatte su queste problematiche. La prima, ed è molto importante, è avere dei board curatoriali di diverse discipline. Cioè, laddove appunto ci siano delle carenze di consapevolezza rispetto a un mondo o all'altro, la creazione di board curatoriali misti, cosa che all'estero già avviene. Io vivo all'estero da tanti anni e devo dire che questa cosa funziona molto. La seconda questione, come proposta che è venuta fuori, molto importante, la transistituzionalità, sono riuscita a dirlo. Cioè, la collaborazione incrociata tra le istituzioni, tra le istituzioni di diverse discipline, ma anche delle medesime discipline. In un momento in cui, comunque, sostenere la produzione a livello economico è molto difficile, avere una collaborazione tra le istituzioni è vitale in questo momento. Poi, una cosa che ho sostenuto molto, creare dei bandi pubblici, aperti, appunto, con i board curatoriali misti, per sostenere la produzione, sostenere la produzione di discipline che altrimenti andrebbero a soffrire. Se penso alla performance in Italia, l'aspetto di produzione è molto trascurato, trascurato perché, appunto, al di là del mercato, non esiste, non esistono nelle arti visive delle piattaforme di produzione, mentre nel teatro esistono. Quindi creare una fluidità in questi bandi al sostegno. Lavorare sulla formazione, un'altra questione a cui noi abbiamo pensato. Cioè, laddove io sono molto formata in un campo e nell'altro non ho un'idea, da subito iniziare a lavorare sulla formazione, a tutti i livelli, addirittura dalle scuole elementari, se mi posso permettere. Un'altra cosa molto importante, creare una mappatura del territorio, laddove io arrivo in una città, io curatore straniero, operatore straniero, non so niente di quel territorio, devo subito essere messo consapevole, diciamo, avere i mezzi per capire chi lavora in quel territorio e a quale livello. Questo deve essere fatto, appunto, in una forma interdisciplinare, in qualche modo. E poi c'è una domanda che tutti noi ci siamo posti, diretta al forum. La domanda è, le conclusioni di oggi che noi abbiamo tratto, come verranno comunicate ai piani alti? Se verranno comunicate e come possiamo a farle diventare veramente incisive? Questa è una domanda che il nostro tavolo pone all'organizzazione. Vabbè, sono stata molto succinta e spero di avere detto tutto e a questo punto passo la parola. Grazie. Grazie mille. Passo la parola a Desdemona Ventroni, che ha coordinato il tavolo Come si conserva l'arte contemporanea. Un tavolo che in realtà è stato chiesto al forum. Il forum aveva questa struttura aperta, quindi da subito uno si poteva iscrivere e partecipare ai tavoli, ma poteva anche sollecitare i tavoli. E questo è uno dei tavoli che è stato sollecitato e in effetti mancava questo settore, questo importante argomento di ricerca e quindi siamo contenti che il pubblico si sia ricordato di inserirlo. Quindi passo la parola e ci raccontano i... Grazie. Io spenderò poche parole, soprattutto a premessa delle conclusioni, tra virgolette, che vorrei presentare insieme appunto a Yolanda Ratti, che ho coinvolto anche per il suo importante contributo alla discussione, ricordando appunto chi ha composto questo tavolo, che è stato un tavolo, si può dire, in qualche modo interdisciplinare, cioè che ha coinvolto figure diverse, che vanno dal conservatore, restauratore, registrar, chi si occupa di realizzare le opere d'arte, allestirle, ricercatori, storici dell'arte, poi molti in realtà sono storici dell'arte e poi anche conservatori e restauratori, e critici d'arte e giornalisti. Quindi sulla base anche dell'assetto del tavolo, la discussione è stata portata avanti in maniera interdisciplinare, ma tenendo ferme le premesse, le questioni che erano state sollevate, insomma dai tre interrogativi posti come abstract della presentazione del tavolo, cioè quali sono le figure che si occupano di conservazione dell'arte contemporanea in Italia e quale sia o possa essere il ruolo delle istituzioni deputate alla raccolta e all'esposizione e dei privati. Il punto su cui credo si è maggiormente focalizzata l'attenzione di tutti è stato quello della formazione e del riconoscimento di alcune figure professionali che hanno un ruolo fondamentale nella filiera della conservazione dell'arte contemporanea, quale appunto quello del registrar da una parte e dall'altra si è sottolineata l'importanza di figure, per esempio anche come quella dell'archivista, in un'ottica interdisciplinare che tenesse conto dell'importanza del dialogo sia tra gli operatori che si occupano di conservazione, sia tra le varie realtà pubbliche e private che poi si occupano di questo, quindi tenendo presente assieme ai musei anche realtà come gli archivi e altro. Quindi convolgerei a questo punto Yolanda per fare un po' una sintesi sui punti emersi e presentarvi insieme quelle che sono state le proposte su cui auspicabilmente si potrebbe continuare anche in qualche modo a lavorare insieme. Buongiorno, dunque uno dei punti principali che è stato trattato appunto era quello di un lavoro corale nell'ambito della conservazione dell'arte contemporanea e interessante è uno dei primi interventi di stamattina che credo fosse di Luisa Menzi che diceva che è interessante che si parla di conservazione e non di restauro perché in realtà molto spesso c'è questa tendenza a considerare che tutto quello che è conservazione voglia dire restaurare, riparare. Invece soprattutto nell'ambito del contemporaneo e soprattutto in quelle che sono le pratiche intangibili e immateriali è fondamentale questa cooperazione tra diverse figure museali. Innanzitutto è stata sottolineata da parte di tutte le istituzioni la necessità del riconoscimento della figura del registrar che è anche uno dei punti che è emerso come proposte. Quindi portare ai piani alti, come si diceva, questa istanza che è veramente molto importante e nei musei è sempre una figura un po' traballante nel senso che a volte c'è, a volte non c'è a volte è una figura molto professionalizzata a volte invece è un ruolo che viene affidato quasi casualmente. E poi appunto un lavoro che tenga conto di varie formazioni perché il restauratore di arte contemporanea e il conservatore di arte contemporanea non può avere essendo un ambito così ampio una conoscenza appunto totale e quindi per esempio nel caso delle installazioni che sono poi il tema forse principale dell'arte contemporanea intendo sia installazioni con oggetti sia installazioni con componenti immateriali è fondamentale che ci sia un lavoro sinergico tra il curatore, il conservatore, il restauratore laddove è necessario l'archivista perché è uno dei temi fondamentali come è anche stato sollevato stamattina è quello della conservazione dell'immateriale quindi sia della performance ma anche appunto dei supporti su cui vengono conservati quindi i video, i film, il suono quindi tutto quello che è l'ambito della conservazione digitale che è affidato ovviamente non a un restauratore formato in dipinti ma a un archivista piuttosto che altre figure fondamentali come quella di coloro che producono le opere quindi sia un lavoro costante di collaborazione con l'artista ma anche un lavoro proprio insieme alle persone che fisicamente fanno i lavori quindi stamattina abbiamo avuto la presenza di Attitudine e Forma che appunto si occupa di lavorare insieme agli artisti e la realizzazione dei progetti e che ancora è importantissimo perché è nell'atto della produzione che poi avviene l'atto della documentazione e anche l'atto della conservazione programmata sia a livello istituzionale sia a livello di istituzioni pubbliche sia private ma che è importante poi anche nel momento in cui l'opera esce dal contesto in cui è stata creata e quindi arriva da una parte sul mercato dall'altra nelle mani del collezionista dall'altra al pubblico che ne fruisce e deve fruirne in maniera filologicamente corretta e poi secondo me un altro tema interessante di cui si è trattato stamattina è stata la necessità di una cultura della conservazione che vada a toccare non solo appunto le istituzioni che poi affrontano altri tipi di problemi più pratici ma anche per esempio i piccoli collezionisti stamattina ora non ricordo tutti i nomi Nicola Maggi ha parlato proprio della necessità di avere come delle specie di manuali di guida anche per i collezionisti in modo che proprio loro possano anche attuare un primo intervento conservativo che chiaramente non può sostituire quello del restauratore ma che può aiutare anche il lavoro del restauratore nel momento in cui si tratta di mettere le mani a un'opera che altro? queste sono state le questioni nodali poi nell'ambito della cultura della conservazione assieme agli aspetti legati al collezionismo quindi alla divulgazione di buone pratiche di conservazione si sono chiaramente affrontate anche questioni che riguardano per esempio il versante assicurativo insomma si sono sondati veramente diversi aspetti però ecco poi tutto nell'ottica come dire anche di ribadire su diversi temi toccati proprio l'importanza di collaborazione e confronto ecco questo bene e grazie mille quindi come vedete si parla degli artisti che quando insomma parlando della interdisciplinarietà viene messo subito al centro l'idea delle problematiche di produzione dell'opera d'arte come questa vada supportata e quindi questa interdisciplinarietà come valore a rendere possibile la creazione di nuove opere d'arte e una fruizione anche allargata alla conservazione delle opere che le rendano quindi vive nei musei e non so come dire anche gestibili da un collezionista perché ricordiamoci che in Italia fino a pochi anni fa senza il collezionismo non ci sarebbe stata l'arte contemporanea e che il collezionista spesso si spaventa davanti a opere che non siano facilmente materiche o gestibili e quindi avere anche la certezza di dei riferimenti professionali che lo facciano fidare nel magari supportare o investire in cose più immateriali è un modo diverso di supportare la creazione e lo sviluppo dell'arte contemporanea a questo punto passo la parola a Fabiola Naldi che è alla mia destra che ha coordinato un tavolo molto interessante che devo dire ha fatto un pieno assoluto di pubblico l'arte deve essere provocazione questo non so come dire non era una provocazione il nostro fare un tavolo di questo tipo è stato affrontato molto seriamente passo la parola a lei per raccontarci grazie Lali ci siamo divertiti molto forse per quello che il pubblico ad un certo punto è a corso in realtà la mia volontà in quanto coordinatore e la decisione anche di invitare personalità molto diverse da loro partiva dal presupposto che di per sé il tema del tavolo era alquanto non vorrei usare la parola complessa però poteva stare in qualsiasi altro tavolo nel senso che l'azione provocatoria l'intenzione il movimento secondo il quale un autore decide di esporsi in un modo piuttosto che un altro è probabilmente alla base anche della processualità artistica contemporanea come passata di sicuro ha a che vedere con tutta la pratica artistica dall'inizio del novecento quindi da quando le avanguardi in qualche modo scelgono di spezzare la catena della classicità e da lì in qualche modo siamo partiti l'abbiamo presa molto lontana decidendo di dare delle cose per scontato partendo dal presupposto che se si trattava di provocazione e abbiamo lavorato anche sul termine etimologico stesso quindi della parola provocazione in quanto tale come elemento di disturbo, di offesa di spinta verso qualcosa che apparentemente non è richiesto è ovvio che tutto il movimento culturale diciamo non solo visivo si è mosso in questa determinata area però ora che cosa fare? quindi la domanda che fare in un momento in cui ciò che noi consideriamo provocazione non è più nelle mani del procedimento artistico ma è invece nelle mani di tutti quei luoghi funzionali che hanno delle mire ben precise allora le cose cambiano quindi siamo partiti da una serie di elementi di criticità che sono poi in realtà diventati delle proposte e quindi il primo inevitabile elemento critico era la inefficacia della produzione artistica laddove l'urgenza può partire anche da un atto di provocazione non più inteso come elemento di disturbo ma come una richiesta di comunicazione di condivisione di apertura verso un tema che noto è venuto fuori in molti tavoli di questa area verso un ambito che siamo poi noi che in realtà è il pubblico che abbiamo deciso di non chiamare più tale e quindi audience, persone insomma su quello possiamo dibattere ci siamo trovati comunque ad avere alcuni ambiti insomma molto comuni e ponendoci subito il quesito che comunque l'opera ad un certo punto per in qualche modo funzionare sia nella necessità dell'autore quindi come elemento di richiesta di affermazione e di partecipazione senza andare verso la provocazione più bieca del termine aveva comunque la necessità di ristabilirsi all'interno di una riappropriazione di ruolo dell'artista dello spettatore e se vogliamo anche di quei linguaggi che spesso e volentieri dall'arte sono stati saccheggiati e sono stati in qualche modo ripresi in altri contesti confondendo la situazione attuale e creando in quel pubblico in quella massa che poi in realtà siamo tutti noi un'enorme gigantesca confusione e un altro termine che spesso è venuto fuori che io condivido pienamente un'enorme noia noia per una produzione artistica che si riflette in se stessa un procedimento quindi non più solamente una realtà ma un fare quasi comune che si relaziona solamente con un luogo con un sistema con degli interlocutori e quando sceglie di interporsi verso un qualcosa che sta all'esterno diciamo del fare artistico e quindi con questo parlo anche dell'istituzione artistica e quindi musei, gallerie e quanto altro diviene qualcos'altro e lì il problema si fa ancora una volta di linguaggio avevamo personalità tra gli invitati che si relazionavano con un utilizzo di un determinato tipo di linguaggio che può essere quello giornalistico quello critico quello estetico e ci siamo tutti accorti che questa grandissima gigantesca noia che in qualche modo però ci fa muovere verso e noi questa cosa l'abbiamo data io ce l'ho lo dico sinceramente provo molta noia spesso e volentieri però in qualche cosa per cui tutti noi in accordo ci siamo detti non ci aspettiamo lo stupore non è questo quello che deve fare in qualche modo almeno per quanto è venuto fuori dal tavolo non ci aspettiamo per forza obbligatoriamente anzi non sempre l'opera deve essere internamente e strutturalmente provocatoria ma indubbiamente vi è in una parte di quell'opera in quella produzione artistica in quella necessità e urgenza dell'autore la possibilità attraverso la provocazione della richiesta di attenzione una fase sostanziale quindi il linguaggio la inefficacia di questo ruolo dell'artista perché è saccheggiato perché è martoriato perché è anche in qualche modo autoriflesso quindi c'è stata un'enorme gigantesca mea culpa da parte di un sistema ci siamo prese le nostre colpe sia dal punto di vista diciamo del mondo più teorico al quale io faccio parte sia dal punto di vista della produzione artistica è venuto anche molto e spesso fuori un elemento fondamentale per una produzione inevitabile assolutamente naturale di un determinato tipo di provocazione intesa lo ribadisco come relazione uso il termine formazione non quanto didattica ma come anche se volete elemento di conoscenza elemento aggiunto di conoscenza che è quello che appartiene a un proprio luogo una propria cultura una propria territorio quindi ad un certo punto si è richiesto si propone all'attenzione non solo dell'operatore artistico ma anche di tutto quello che appartiene al mondo della produzione artistica di riflettere molto sull'altro e quindi in qualche modo tenere conto di una storia di una cultura di un territorio di una sinestesia che appartiene a un occidente piuttosto che a un oriente con modalità completamente differenti e quindi evitando anche quelle che sono le ipotetiche banalità dell'atto provocatorio vedete che in realtà di per secolo che vi sto raccontando che è solo ovviamente una minima parte perché io non ho fatto altro che scrivere per due ore e mezza ha in realtà prodotto attraverso quelle criticità iniziali un insieme invece di riflessioni molto interessanti che credo siano inevitabilmente connesse con il fatto che ad un certo punto non possiamo più fare i conti con le avanguardie del passato e che in qualche modo dandole inevitabilmente finalmente scusate perché abbiamo questi fardelli pesantissimi che schiacciano anche le ultime generazioni dobbiamo darle per scontate riconoscendole e conoscendole questo è un altro elemento che è venuto spesso volentieri fuori però in qualche modo non tentando una via alternativa ma semplicemente tenendo in considerazione il fatto che quello che ci circonda di cui noi facciamo parte è fondamentale attenzione perché non si sta parlando di un rispetto dell'esigenza altrui in questo atto provocatorio inteso come continua relazione ma è indubbiamente la possibilità di riaffermarsi in quanto coloro che in qualche modo hanno fatto dell'elemento provocatorio e avete capito in che senso intendiamo il termine il procedimento inevitabile della produzione artistica partendo da questo è ovvio che la possibilità potrebbe essere quella appunto che si apra un mondo nuovo attorno a noi e non ho paura a usare il termine nuovo io non ho affatto paura mentre spesso e volentieri questa paura si ha in realtà è una caratteristica costante e se non ci fosse quella noia che come avrete capito nonostante ci siamo molto divertiti all'interno del tavolo ci ha accomunati tutti probabilmente non avremmo neanche la voglia di scansarla di evitarla e quindi in qualche modo di spingere su un piede sul piede comunque di un acceleratore estremamente interessante che è dichiaratamente non solo concettuale ma che diventa anche visivo fortemente visivo e che deve inevitabilmente tenere conto di quello che è la nostra storia ma anche la storia degli altri grazie bene grazie mille a questo punto passo la parola a Francesco Scasciamacchia che ha coordinato un tavolo diciamo per sua natura impegnativo che poteva trasformarsi in un intero weekend di autocoscienza ed è un tavolo il cui titolo era un nuovo ruolo sociale per l'arte e come aneddoto vi racconto che in realtà il tavolo non so come dire è stato un po' performativo forse ci puoi raccontare in che modo allora buonasera a tutti noi siamo partiti dal fatto cioè dall'organizzarci come pretavolo molto prima dell'evento di oggi perché ritenevamo che la complessità del tema non potesse essere così riassunta o sviscerata in tempi brevi la domanda risultava a tutti astratta e ingombrante quindi detto ciò c'è stato un processo a monte di socializzazione fra di noi per scoprire che tutti avevamo questa urgenza di ripensare a che cosa significa nel contesto italiano il ruolo sociale dell'arte le conclusioni a cui siamo giunte è stato quello di creare una situazione che fosse di per sé sociale quindi di allontanarci dalla discorsività astratta o definitoria di che cos'è il ruolo sociale dell'arte ma di performare nel tavolo questa socialità l'abbiamo fatto attraverso due gesti simbolici che possono essere delle metafore o dei punti di partenza per ripensare a che cosa significa un nuovo o semplicemente il ruolo sociale dell'arte perché poi non so se siamo arrivati al nuovo abbiamo fatto due gesti un gesto è quello di annullare il regime di spettatorialità che c'era nella struttura del forum ossia il pubblico spettatore con delle sedie poste anche in un format così di display delle stanze fuori dal tavolo integrandolo invece in una tavola rotonda che fosse inclusiva e che superasse questa distinzione pubblico spettatore e partecipanti o invitati al tavolo come gli esperti o quelli che avrebbero performato la loro conoscenza rispetto a che cosa era il nuovo ruolo sociale dell'arte e l'altro piccolo gesto simbolico è stato quello di concederci una dimensione spazio-temporale più espansiva rispetto a quella che la struttura del forum richiedeva in cui avevamo una struttura di criticità obiettivi e proposte scansionate per tempi e quindi avevamo non so avevamo fatti i calcoli tipo tre minuti a testa quindi è stato un tavolo un po' autogestito se volete anche un po' anarchico che però ha permesso di già toccare due punti su che cos'è il nuovo ruolo sociale dell'arte o che cosa può essere cioè il fatto che non si può definire un nuovo ruolo sociale dell'arte se non lo si esperisce o non lo si pratica quindi siamo partiti da questa considerazione di base pre-tavolo cosa è successo nel tavolo? ho avuto delle grosse sorprese perché l'idea di avere nel tavolo due artisti che per me sono significativi su le discorsività sociali o vogliamo chiamarle relazionali pensando a Burriò ma insomma il paradigma è stato abbastanza superato attraverso tutte le pratiche sociali che stanno avvenendo come sempre avviene poi i paradigmi teorici sono una cosa quello che gli artisti fanno gli artisti sono degli acceleratori quindi vanno sempre più avanti rispetto a quello che poi viene teorizzato e quindi c'era Valerio Rocco Orlando e Beatrice Catanzaro come due esempi di pratiche sociali e di artisti italiani che si occupano di pratiche sociali due visioni molto diverse molto distanti quasi conflittuali perché Valerio Rocco Orlando è un artista che utilizza il processo sociale e relazionale ma ha la necessità e l'urgenza di restituire il processo sociale e relazionale nell'istituzione attraverso un dispositivo estetico o simbolico nell'istituzione un video piuttosto che un'operazione di relazione col pubblico all'interno dell'istituzione perché per lui è importante che l'artista entri nell'istituzione dall'altra parte invece c'era Beatrice che ha passato Catanzaro scusate che ha passato un bel po' di tempo in Palestina dove tra l'altro ha insegnato anche e insegna credo ancora non so se Beatrice ce lo può confermare che invece ha sviluppato una pratica completamente fuori dalle istituzioni lei ha più volte usato il termine di attivatore facilitatore e ha anche dimostrato una difficoltà nel definirsi artista quello che lei ha fatto lo faccio breve e se c'è Beatrice vuole correggere o dare delle indicazioni sulla sua pratica più precisa lo può fare e la invito a farlo anzi ha supportato un centro di donne in Palestina con un progetto un'iniziativa che ha catalizzato delle energie delle donne palestinesi in un contesto in cui il ruolo della donna sappiamo tutti qual è questo progetto vive si nutre ancora quindi lei lo ha attivato ma il processo continua ad esistere a formarsi e ad autogenerarsi e in questo senso è stata un facilitatore o un connettore di un'urgenza nel tessuto sociale e non ha rivendicato una rappresentazione quindi stiamo parlando di pratiche che vanno fuori dai meccanismi della rappresentazione nel mondo artistico con documentari o con altre cose che possano essere un dispositivo per far entrare questo progetto all'interno dell'istituzione quindi questo è stato un po' tu però ti interrompo perché comunque i tempi sono serrati tu ci hai anche raccontato sono un po' logorroico che è venuto fuori un termine interessante questo disturbo artistico di massa stavo arrivando lì ci racconti stavo arrivando lì dicendovi che questa è stata una parte del tavolo basata molto sulla metodologia artistica e quindi come la metodologia può essere considerata una metodologia sociale nell'arte avendo queste due visioni che in realtà si dialogano fra di loro non sono così distanti questo è quello che abbiamo scoperto noi per poi arrivare invece ad un piano molto molto più teorico perché avevamo due generazioni avevamo gli studenti dell'accademia ventenni che io ieri sera ho conosciuto in Pullman andando a San Gimignano e che non sono stati invitati come partecipanti ma c'erano e parlando con loro ho capito che c'era l'urgenza di intervenire o un'urgenza di far sentire la loro voce e avevamo al nostro tavolo Gianmarco Montesano che ha avuto un'esperienza con autonomia operaia e che ci ha parlato e che io ho invitato a darci una testimonianza e gli studenti dell'accademia due visioni diametralmente opposte che io penso possono essere produttive per pensare a che cos'è il nuovo ruolo sociale dell'arte perché Gianmarco Montesano ci ha parlato io l'ho invitato a parlare del rifiuto del lavoro quindi le pratiche di rifiuto del lavoro come pratiche sociali di resistenza alla cooptazione del capitale rispetto alle produzioni artistiche quindi pratiche degli anni 70 e lo studente invece parlava di no io voglio cambiarlo io voglio trasformarlo io voglio essere nel sistema e Gianmarco ha lanciato questa definizione che io credo da qui in poi mi accompagnerà per un po' di anni perché mi continua che è appunto quello di cui tu parlavi il disturbo artistico di massa ossia il fatto che questo sistema o la vera rottura può solo avvenire attraverso l'accompagnamento senza delega alla fine di questo sistema e con questo